Questo video riguarda i migliori tre robot lavavetri. Il vincitore della qualità è l'Evovax Winbot 1 Pro W. Con la sua potenza di aspirazione ottimizzata di 2800 PA, che deve alla sua sofisticata aspirazione, il robot per finestre aderisce bene alla finestra in ogni momento. Winbot 1 Pro W pulisce la finestra completamente e accuratamente con un movimento avanti-indietro in tre modalità adattive, pulizia rapida, pulizia profonda e rimozione delle macchie. Un sistema di azionamento con funzione antiscivolo che assicura un movimento fluido. Il sensore di accoppiamento ad alta precisione rileva i bordi e regola il percorso di pulizia entro 0,02 secondi, così Winbot 1 Pro W può pulire finestre senza telaio con facilità. Utilizzando materiali di alta qualità e impostazioni precise di gravità, il nuovo Winbot può muoversi stabilmente sulla finestra. Il design unico a spruzzo incrociato è adatto a tutte le finestre e dissolve le macchie per una facile rimozione successiva. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il MamiBot 120 WT. 3 modi di utilizzare il MamiBot W120T Funzionamento chiave Funzionamento tramite telecomando entro un raggio di 15 metri Funzionamento tramite App MamiBot per iOS e Android MamiBot IGLASS BOT W120T può pulire un metro quadrato in circa 2 minuti. Durante la pulizia, si sposta in modalità Z o N. Grazie all'intelligenza artificiale, calcola il percorso di pulizia ideale e passa automaticamente dalla modalità di navigazione. W120T può essere utilizzato su superfici diverse molto più di un semplice robot per pulire la finestra. Il robot di pulizia per finestre MamiBot può essere utilizzato su varie superfici come vetro, piastrelle e persino legno. Diversi sensori proteggono il robot dalla caduta di finestre frameless o da tavolo. Pulizia della finestra intelligente ed efficiente Un motore brushless a lunga durata genera un'elevata potenza di aspirazione di 3000 PA. Il vincitore del premio è l'AlphaBot 16. Utilizzando la tecnologia tedesca di adsorbimento del motore a vuoto, aiuta il robot lavavete AltriAlphaBot X6 ad aderire alla superficie del vetro. Simula la mano per pulire le finestre, aiutarti a risolvere il problema dei lavori di casa. E la tecnologia AI identifica infissi e ostacoli. La macchina deve essere collegata all'alimentazione. Basta un pulsante per iniziare, le due ruote del lavavetri possono muoversi liberamente sulla superficie di finestra o pareti. È controllato dal telecomando, è semplice e conveniente, verrà utilizzato facilmente anche da anziani e bambini. Il lavavetri magnetico non solo per pulire i vetri di finestre, ma anche per piani e tavoli da pranzo, specchi, vetri e pareti da bagno, ecc. Pianificare intelligentemente il percorso di pulizia. Ci sono tre percorsi di pulizia automatico, e puoi anche pulire le finestre manualmente controllando da telecomando. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.